La voce interiore attraverso Roberta S. I cambiamenti. Accorgetevi che la vostra vita non è fatta per restare su un'onda fatta di staticità e che i cambiamenti sono l'unica fonte di arricchimento che avete. Non ce ne sono altre. Se non vivete alcuni cambiamenti, vi ritrovate ad essere individui persi nella propria stessa dimensione e seppure la staticità vi può suggerire un pensiero di sicurezza, noi vi diciamo che non c'è cosa peggiore di un'esistenza che non è in grado di sostenere dei cambiamenti e molte esistenze umane non sono in grado di sostenere delle modifiche nel proprio percorso e per questo non le vivono. Voi che le vivete sappiate accorgervi di questo, sappiate rendervi conto che in realtà cambiare significa essere benedetti in un certo senso e poter percorrere una strada nuova ricca di fiori da cogliere. Sappiate cogliere quei fiori e vederli, sappiate osservarli, sappiate vedere come le persone che vi circondano cambiano atteggiamento nei vostri confronti quando si accorgono che state vivendo una difficoltà e sappiate vedere voi stessi immersi in quella difficoltà in grado di superare gli ostacoli per poterne poi trarre dei vantaggi fatti di vibrazioni e non di materia.